Ben nota ormai la grave vicenda dei cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede dell'Associazione Quattro Torri. Il Civico 30 di Via Confalonieri a Pomezia, sede del Circolo di Scacchi, ha ospitato negli ultimi tempi anche il Forum Pomezia Acqua Pubblica, il Partito della Rifondazione Comunista, il Gruppo dello Sportello Donne, la Rete Antirazzista e la raccolta di abiti e altri generi di prima necessità per i migranti arrivati in città. Nei giorni scorsi, proprio a causa di questa grave e amara vicenda, il Partito della Rifondazione Comunista, più probabile destinatario dell'intimidazione, ha convocato un incontro a difesa dell'agibilità democratica, come ha spiegato il segretario PRC di Pomezia, Anna Mirarchi. All'inizio sicuramente mi sembrava una situazione irreale, adesso sono molto preoccupata perché io spero davvero che sia stato il mattacchione di turno, che si è voluto divertire così, però cinque colpi di pistola diretti qui mi fanno pensare ad altro, ma non ho certezze, quindi questi dubbi li tengo per me. Io voglio precisare una cosa, questa è la casa della solidarietà, è la casa dell'accoglienza, che voglio dire che l'Associazione Quattro Torri davvero in modo generoso ospita noi di rifondazione, ha ospitato i comitati dell'acqua in passato, abbiamo fatto la raccolta per i migranti qui, davvero chi ha bisogno, chi non ha una sede, chi non può pagare una sede, si può appoggiare qui, sono molto generosi. Quindi in effetti, non so, sti spari erano riferiti a chi, all'Associazione Quattro Torri che giocano a scacchi, che fanno attività ludiche, a rifondazione comunista per la raccolta che è fatto per i migranti, cioè per i gesti di solidarietà che ha espresso, non lo so, non ve lo so dire. Certo che sono molto preoccupata. Abbiamo ricevuto la solidarietà di tutti, devo dire, fuori il marciapiede pieno, sono arrivati non solo cittadini, i compagni da tutta la zona dei Castelli, i partiti politici, vedo il segretario del PD, vedo SEL, poco fa mi ha telefonato la segretaria della CGL, la nuova segretaria della zona Castelli-Litoranea, quindi voglio dire, non ci sentiamo soli, siamo preoccupati ma non siamo soli. A notare i fori provocati dai proiettili, il vicepresidente dell'Associazione Quattro Torri, Bruno Daconi, che ci ha raccontato i dettagli del giorno in cui si è reso conto dell'intimidazione rivolta nei confronti della sede di Via Confalonieri. Nei giorni successivi al fine dell'anno, quindi il 2 e il 3, io non mi sono accorto dei buchi alla seranda, perché ho il laboratorio qui a fianco, era aperto, quindi la seranda non mi è data occasione di aprirla, quindi non ho fatto caso che c'erano dei buchi sulla seranda. Siccome abbiamo fatto della raccolta dei giocattoli per bambini, abbiamo chiamato il presidente dell'associazione Tirrenium, che fanno di solito ogni anno la befana all'ompi ai bambini che non hanno, che gli fanno i regali, e quindi ho chiamato il presidente, è arrivato qui, ho chiamato subito i garabinieri e sono venuti loro qua. Era il pomeriggio, tre e mezza alle quattro, mi pare, del quattro, e poi sono venuti i garabinieri e hanno chiamato, a loro volta hanno chiesto documenti di chi era presente, hanno chiamato a loro volta la scientifica per prendere rilevamenti, hanno raccolto dei reperti all'interno, parti di bossolo, diciamo, no di bossolo, di ogiva, che il proiettile era blindato, quindi hanno raccolto qui per terra, hanno levato un proiettile che è rimasto sano sul montante della finestra, e siamo rimasti qua tre e quattro ore perché hanno transennato pure tutta la parte anteriore del locale. Non si sono fatti attendere manifestazioni di solidarietà da parte di altre associazioni del territorio, come la Tirrenum. Natale Luperi, infatti, ha riportato un episodio intimidatorio rivolto contro l'associazione di cui è presidente che ha provocato non pochi danni e di cui sono ancora ignoti i responsabili. Sono venuto qua per dare la solidarietà a Bruno perché collaboriamo spessissimo tra le nostre due associazioni e quindi è veramente un amico, un gesto veramente che ci ha lasciato costernati. Tra l'altro noi abbiamo subito anche noi un attentato, se non sbaglio nel 2011, ci hanno bruciato la sede e purtroppo queste cose sembrano che avvengano e continuano a avvenire quando si ci muove per qualche cosa che crea dei fastidi a qualche di un altro. Per quanto riguarda qua, come è stato detto prima che ho sentito da Bruno, raccoglie e dà ospitalità a parecchie associazioni, probabilmente suppongo che sia stato più indirizzato verso la rifondazione comunista, suppongo io che ad altre tipologie, oppure, non lo so, perché a volte, adesso non credo che sia uno così individuale, penso che sia un qualcosa di premeditato e di un avvertimento, come dire, fermatevi. Anche dai comuni limitrofi sono arrivati numerosi rappresentanti di associazioni dalla città di Aprilia in nome dell'Ampie e ha intervenuto Filippo Fasano che riguardo a questo episodio ha esternato una preoccupazione a livello nazionale. Abbiamo voluto partecipare alla solidarietà con le associazioni che mi hanno detto sono qui presenti in questo stabile e anche al partito della rifondazione comunista che sappiamo molto impegnato ad Aprilia sui temi dell'immigrazione. Siamo ovviamente, come Ampi, preoccupato su tutto il territorio nazionale. La Costituzione è il nostro faro, è il nostro punto di riferimento. È lì che ci sono i valori che dobbiamo continuare a perseguire. A far presente il loro appoggio non potevano mancare anche esponenti di altri gruppi politici pometini. Tra questi, Sinistra Ecologia e Libertà, nella persona del coordinatore cittadino Walter Bianco, ha espresso la preoccupazione per un livello di guardia evidentemente inadeguato alla gravità di quanto accaduto. Con i compagni di rifondazione abbiamo una lunga storia di collaborazione e quindi stiamo facendo un percorso anche interessante insieme anche per il futuro. Questo fatto è un fatto grave, a prescindere da quelle che poi sono le matrici sulle quali dovrà indagare poi la magistratura nel corso delle indagini che si stanno svolgendo. In quanto è, a mio avviso, il segno di un degrado della convivenza civile nel nostro territorio. In questi ultimi mesi si sono verificati numerosi fatti, eventi criminosi. La preoccupazione di Selle è che il livello di guardia e di attenzione su queste vicende non sia adeguato alla pericolosità dei fatti. Questo è un luogo di aggregazione, è un luogo dove, come vedete, si svolgono attività culturali e la sede è anche di un'associazione scacchistica. Un luogo di ragione, per l'appunto, di discussione, di confronto e il fatto di sparare e quindi di voler simbolicamente annullare questo dialogo, questo confronto è un brutto segnale, un segnale di quando si fanno parlare le armi invece di far parlare le menti è sempre una brutta cosa. A giudicare questo atto come assolutamente deprecabile è anche il capogruppo consigliare del Partito Socialista, Roberto Mambelli. Vengo per nome e conto di tutto il Partito Socialista italiano che io mi onoro di rappresentare in questa città, attualmente in Consiglio Comunale, quindi io sono ovviamente d'accordo a stigmatizzare qualsiasi comportamento come questo, che è un atto a mio avviso intimidatorio molto grave nella nostra città e siamo contro la violenza, possiamo capire il confronto politico, delle volte anche il dissenso, ma mai arrivare a questi atti di violenza che sono veramente deprecabili e speriamo che non accadano più nella nostra città. Spero che sia stata una bravata sotto a Capodanno, ma una bravata non è che si può fare con delle armi da fuoco e con cinque proiettili che divertono una vetrina di una sezione, peraltro poi ho visto anche ad altezza d'uomo, quindi sono comunque atti molto gravi e secondo me anche sintomatici di un malessere che c'è nella nostra città e quindi va sicuramente scongiurato e vanno fatte tutte le opportune considerazioni e anche indagini da parte della magistratura dei Carabinieri per porre insomma un luce su questo fatto increscioso che sinceramente da quando io sono nato a Pomezia non mi sono mai ricordato un atto del genere che fosse mai successo in questa città. Un atto che va oltre ogni divergenza politica e che equivale ad un colpo al cuore della democrazia, così Stefano Mengozi, segretario del Partito Democratico, ha definito questa intimidazione. Innanzitutto la vicinanza è un fatto che mi sembra, la prima cosa che bisognava manifestare era proprio la totale solidarietà e vicinanza ai compagni di rifondazione comunista e all'associazione scacchistica. È un fatto aberrante, è un fatto drammatico che ci preoccupa. Al di là di quali possono essere state le ragioni, quando si colpisce un partito politico si colpisce un po' il cuore della democrazia e quindi questo ci preoccupa ancora di più. Noi stiamo qui, cerchiamo di stare vicini e stare uniti insieme anche agli altri partiti della sinistra e soprattutto perché non è che i signori che hanno sparato questi colpi possono pensare di mettere a tacere le nostre voci in questo modo. Una prima risposta sta qui fuori, tutta questa gente che ha partecipato questa sera a questa iniziativa organizzata un po' anche velocemente. Stare insieme e cercare di creare sempre più occasioni di incontro e di confronto. Questa è un'esigenza che sento non solo da segretario di un partito politico ma soprattutto da cittadino. Il sogno di tutti noi e sono sicuro che è il sogno mio ma è il sogno anche di Anna, la segretaria di rifondazione, è quello di cercare di rinsaldare un po' i legami di comunità su questo territorio e quindi noi ogni giorno cerchiamo di lavorare in questa direzione e questa sera insomma è una tappa di questo percorso. Per il PRC è intervenuto anche il segretario della sezione Castelli e Litorane a Marco Bizzoni che ha specificato che quello dei giorni scorsi è un elemento di intimidazione non indifferente, commentando inoltre anche le parole di solidarietà espresse dal segretario nazionale Paolo Ferrero. È un elemento di intimidazione non indifferente, un elemento che significa che questa realtà di fondazione ma anche la stessa associazione può dare fastidio a qualcuno, a qualcuno che non vuole che ci sia una realtà aggregativa, non vuole che ci sia un partito politico che fa iniziativa politica e sociale. Sotto questo aspetto anche il segretario nazionale Paolo Ferrero ha mandato un messaggio di solidarietà e è molto chiaro in cui ci dice che questi proiettili sono stati dei colpi che servono a intimidire i militanti, intimidire i cittadini che partecipano all'attività dell'associazione ma che questa intimidazione non può e non deve passare. Noi non sappiamo che è stato, è stato denunciato tutta la magistratura e quindi aspetteremo di avere i risultati, però di certo non fermeremo le nostre attività per questo motivo.